Un parto lungo e travagliato, quello che ha portato alla nascita del candidato sindaco del centrodestra unito per Brindisi, Sarapino Marchion rappresenta la proposta politica di approdo per partiti e liste civiche alternative alla sinistra. Il Movimento 5 Stelle hanno scritto nella nota le segreterie provinciali di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega un comunicato condiviso di quattro righe, diffuso giovedì sera. Due ore dopo, la nota dell'onorevole Dattis. Sono contento dell'esito unitario del confronto per la designazione del candidato sindaco del centrodestra Brindisi. Voglio ringraziare i colleghi e gli amici Donzelli e Locatelli che, rappresentanza di Fratelli d'Italia e Lega, condividono con me un confronto quotidiano per garantire la massima unità del centrodestra su tutti i territori. E quindi, visto che le decisioni si prendono a Roma, ringraziamenti agli inquilini dei piani alti dei palazzi importanti, nessun riferimento a chi sul territorio brindisino ha partecipato o subito un teatrino al quale la città avrebbe preferito non assistere. Nessun riferimento a Pietro Guadalupi che, facendo un passo indietro, poco importa se di sua sponte o su forzato invito, ha di fatto sbloccato la situazione sul ring e non solo, visto che un attimo dopo su Facebook sono comparsi i santini elettorali di candidati nella lista di Marchionna sindaco. A lui, indicato da Forza Italia, l'onere e l'onore di rappresentare il centrodestra in una campagna elettorale lampo e senza esclusione di colpi. Un centrodestra che, al netto delle parole nei fatti, appare tutt'altro che unito toccherà sempre a lui e a Marchionna. Insomma, rimettere insieme tessere grandi e piccole di un puzzle che ha faticato fino a ieri ad offrire la migliore immagine di sé.